Ciao a tutti, se un uomo si comporta in questo modo sicuramente non ti ama. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Allora, se hai a che fare con un uomo che mette in atto qualcuno dei comportamenti che andrò a delencare adesso, sicuramente non ti ama. Allora, il primo comportamento che mette in atto un uomo che non ti ama è quello di alimentare le tue speranze senza fare nulla di concreto. Cioè, sa che tu vuoi che lasci la moglie per dire perché è uno sposato, allora dice la lascerò, farò, sarà, sempre domani, sempre in un altro momento e procrastina continuamente nel tempo. Ecco, questo è un comportamento tipico di un uomo che non ha stabilità, che non ha moralità, perché la moralità è rispettare gli impegni presi, cioè fare quello che si dice. Piuttosto non dici, ma se dici fai. Quindi, un uomo che non ha moralità non ti ama. È inutile che tu possa illuderti, possa credere che ci possono essere dei motivi per cui ti ama. Ma no, assolutamente, non ti ama. Non ti ama un uomo che non ti dà fiducia, un uomo che quindi è geloso. Anche qua spesso ci sono dei fraintendimenti, si intende la gelosia come dimostrazione d'amore. Non è assolutamente vero, anzi è vero assolutamente il contrario, che la gelosia è tutto, meno che dimostrazione d'amore. La gelosia è dimostrazione di senso del possesso, nel voler controllare, nel voler essere, diciamo, nel voler essere coercitivo nei confronti di una persona. Quindi, chi è geloso, chi non ti dà fiducia, non ti ama. Non ti ama chi non ti valorizza, ma anzi ti squalifica. Chi non vede, non trova, come dire, il miglior sport è quello di dire che non capisci, che non sai, che non vai bene. Quindi, questa è una cosa da genere presente, come non ti ama chi ti vuole condizionare, chi vuole importi il suo punto di vista, importi la sua modalità, importi il suo comportamento. Sono persone che non ti amano. Una persona che ti ama fa esattamente il contrario, diciamo. Cerca di valorizzarti, cerca di, eventualmente, darti consigli, ma non importi nulla, e cerca di prendere in considerazione quelle che sono le tue esigenze. Beh, un uomo che mente, che è bugiardo, non ti ama, perché, come dire, il vero tradimento è quello di non manifestare, ad esempio, i propri sentimenti, le proprie intenzioni. Quindi l'amore passa attraverso la sincerità, passa attraverso la complicità. Un uomo egoista, che guarda solo se stesso e i suoi interessi, quello che va bene a lui, è un uomo che ti usa, magari, ma che sicuramente non ti ama. Chi ti vuole comprare, in qualche modo, non ti ama. E se uno dice, eh, ma questo mi paga qua, la... Sì, ma magari lo fa per comprarti, cioè, per poterti condizionare. Chi non lascia esprimere i tuoi talenti, non ti ama. Ebbè, anche qua, molti mariti, poi alla fine per gelosia, dicono, no, tu stai a casa, tu fai qua, tu fai là, preferiscono al limite mantenerti, ma questa è la funzione di controllo, di controllarti, per poter avere tutto sotto controllo. E una persona che si comporta in questo modo, sicuramente non ti ama. Ecco quindi che se vedi dei comportamenti di questo genere, hanno... Io, poi, non sono neanche andato su quelli più eclatanti, perché poi sono comportamenti eclatanti, dove ci sono ira e violenza, cioè, lì, ovviamente, è dopo e scontato che... Anche se poi non dovrebbe essere così per scontato, perché ci sono pure situazioni in cui si crede che una persona violenta ti possa amare. Ecco, questo lo do già subito per scontato, insomma. Però anche in questi altri casi, sicuramente, sono manifestazioni di possesso, di controllo, di gestione, ma non di amore. L'amore è il desiderare la felicità di un'altra persona, tutto il resto è fuffa. Bene, per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramaschi, iscriviti al canale, ci vediamo nel prossimo video, ciao!